Sono comunque... stanno scappando i migranti, in questo dato momento. Eccone due là, eccoli là, eccoli, eccoli. Aspetta, non ti preoccupare. Eccoli. C'è quello lì che la guida. Eccoli. Sanno pure l'italiano. Mi dai un po' di acqua. Sanno pure l'italiano questi. Guccino d'acqua. Ma va, cagata. Guarda, forza Tunisia. Forza Tunisia. Sì, sì, ma sanno ben uno. Tutti col telefono, tutti quanti. C'è uno mi fa... Orgogliosi pure di venire dalla Tunisia. Guarda come ridono. Guardali. Ma dove cavolo state andando? Fuori di testa. Guardali sono. Anche da lì. Ma quanti cazzo sono? Uno, due, tre, quattro, cinque, cinque, cinque. Mi sbucano ogni due secondi. Ma poi è assurdo che la gente nostra è stata costruita a fare l'altra strada per i Corobie perché sicuramente stanno passando l'oro. Cioè, questi qua possono essere pure affetti da Covid, quindi vengono verso di noi. Cioè, verso di noi. Massimo, forse sì. Pazzesco. Non ho parole. Ormai, ormai, sono arrivati. Scusate che non voglio rovinarti. No, 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 sei tranquillo. Siamo nella spiaggia dei conigli. Vabbè.